Castelli, borgo internazionale della ceramica, si candida ad essere il paesaggio culturale abruzzese da salvare e da vivere. 22 comuni teramani e le più importanti istituzioni del territorio, capitanati dalla provincia di Teramo, si sono stretti intorno a questo progetto sviluppato dal Consorzio Punto Europa e da Unico Gran Sasso, al fine di rendere Castelli il candidato ideale in Abruzzo nell'ambito dell'avviso per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di estinzione. Presentiamo questo progetto questa mattina che punta su tre asset fondamentali, cioè il rilancio del nostro museo, delle ceramiche, la nostra scuola, il nostro liceo, il nostro orgoglio e tutto quello che è il comparto dell'artigianato. Io penso che i finanziamenti del PNRR sono fondamentali per il rilancio del nostro paese, diventano vitali per realtà come Castelli, perché Castelli è una realtà in difficoltà, che soffre di spopolamento e che rischia realmente di scomparire e questo è un allarme che deve, come dire, essere lanciato dal sindaco ma deve essere raccolto da tutti, dal presidente della regione ma anche dallo stesso presidente del Consiglio, perché Castelli è un valore universale dell'Italia ma dell'Europa. Conosciuto nel mondo e annoverato tra i borghi più belli d'Italia, Castelli ha subito negli ultimi anni un grave spopolamento, passando dagli oltre 3.000 abitanti nel 1800 a soli 990 residenti nel 2020. La regione Abruzzo valuterà il progetto di rivitalizzazione di questo meraviglioso paese e a Tifare ci sono tutti i comuni della montagna Terramana. Oggi le istituzioni, non solo, sono insieme per valorizzare il territorio provinciale. Credo che il risultato emblematico sia proprio questo, uniti insieme per fronteggiare delle esigenze che vanno verso lo spopolamento, il degrado delle aree interne, su un progetto che ha una validità tecnica, quindi scegli da ogni condizione politica o di campanile, ma abbiamo solo valutato quali sono le condizioni e Castelli ha tutte le carte in regola per avere la meglio su questo bando. Salvare Castelli, la sua arte ceramica e le sue bellezze sarebbe un obiettivo strategico per l'intera regione, ma anche per l'Europa tutta. Il COPE ha immaginato e iniziato questo bel percorso. Assolutamente, è un percorso entusiasmante che vede tutti i soggetti del territorio, un ponte virtuale tra la tradizione millenaria castellana e il futuro di questa regione, non solo di Castelli. Castelli come perla d'Abruzzo, come luogo simbolo per tornare a crescere attraverso la cultura. Dobbiamo ritornare a parlare di ambiente, di cultura, ma anche di territorio e soprattutto questi borghi devono tornare a crescere. Ci sono le risorse, bisogna mettere in campo le strategie necessarie attraverso la progettazione. Il COPE fa questo.